state per scoprire il segreto di una perfetta frittura olio olio di semi di arachide un olio purissimo attenti a quello che succede la superficie della patatina diventa subito croccante così dentro si mantiene asciutta e gustosa il risultato croccante fuori fragrante dentro olio il segreto di una perfetta frittura la nuova citroena x diesel sta per battere il record di accelerazione della sua categoria poi si fermerà qui davanti a noi per mostrarci i suoi favolosi interni ma dove va? ferma! dopo la prova di maneggevolezza x si fermerà qui per mostrarci lo spazio e il comfort dei suoi interni ma no ferma! al termine della prova di consumo potremo a mirare l'immensità degli interni di x diesel capo fa 1200 chilometri con un pieno citroena x grande anche nel diesel io crescerò sicuro per il mondo andrò e coi biscotti plasma il mio amore avrai io crescerò bellissimissimissimo sarò con i biscotti plasma si diventa grandi plasma! plasma!